Carlo Guccione rompe gli indugi ed annuncia il sostegno alla candidatura di Nicola Zingavetti alla segretaria nazionale del PD. Mi pare che sia quella che va nella direzione di una netta discontinuità di quello che è stato il Partito Democratico in questi anni, a Guida Renzi, e che è in grado di costruire un rapporto di alleanza, un programma alternativo a questo governo, credibile per conquistare la fiducia degli italiani. Mentre per Guccione si tratta di un approdo naturale alla luce della linea tracciata da Andrea Orlando, del quale aveva già seguito le orme nel corso del precedente congresso, per Oliverio il sostegno a Zingavetti rappresenta una deviazione non da poco, quasi un'inversione a U. Lei è Oliverio sulla stessa linea, chi ce l'aspettava? Nella vita ci vuole coerenza. Ho visto che nel corso di questi anni si è passati da Bessani senza battere ciglia a Renzi. Ho letto che non si può sostenere i Minniti perché Minniti pare non abbia fatto fino in fondo il suo dovere da ministro per dare la sanità ad Oliverio quando eravamo al governo del paese. Intanto slitta ancora il congresso regionale. All'orizzonte se ne prospetta lo svolgimento a marzo, contemporaneamente a quello nazionale. Sullo sfondo ancora poco chiara la posizione del Partito Democratico rispetto alla fuga in avanti del governatore. Il PD ha le sue regole. Credo che il PD debba fare le primarie e se Oliverio vuole candidarsi alle primarie del PD può farlo benissimo e ci saranno candidati che esprimeranno un'altra posizione. Per il senatore Magorno, segretario regionale uscente, invece il ticket Minniti-Oliverio può comunque funzionare. Unità attorno alla candidatura di Minniti, segretario nazionale del nostro partito, un'unità del Partito Democratico Calabrese nel sostegno a Mario Oliverio. E anche la sua posizione? E la mia posizione.